Sì, sì, sì. e io mi allo do, che fei da pedo, e mi non vedevo, e mi poteva a sopravire. e io mi chiedevo in un bambino, e che da un ueno, mamma, a che caderevo, posto lo che si vedeva, ma poi l'avamo per la casa 13, e io gli gli dici, sei lo so, mi corre, e io mi meto il bambino, mi parlavo, mi mi pareva, e io dì, mi avevo, sei se vede loco, come un pochato, posto, che dico che se accade stava a dirigeci a perdere fai un esito perché io li mi dirige io mi testo di e io subo a salire calzano tante sì capo fischio io lì io lì per lei io lì e io fai lì e sei lì e fai lì come un paio non io perché l'acqua arriva e tu l'acqua non parlava tutto e dì devo fare una scada ma io ma scada una scada ma io perché io non pensavo io che ma pensavo che che il fatto che tu volevi sentzato e credi che tu mi hai riusciato a me e come io che ci sono le sentite a me se ti senti a me e poi che mai o te abbiamo un po' e io te lo senti a me e quindi farò a fare perché no credo a scopare che è mai o che noi vediamo se ti senti a me dopo questa prima paura vedi a te posso e quindi non ho scopare perché ne sono le mie non ho scopare se ti metti a me se ti metti a me io se tu metti a me ho scopare a me non ho scopare Questo è un po' perché non so male.